Oramai siamo al giro di Boa del Moto Mondiale 2021, si è corso due giorni fa il nono appuntamento della stagione ad Assen sul circuito del TT, quattro categorie in gioco e primi bilanci da fare nel nuovo Racing Podcast dedicato al Moto Mondiale. Un Moto Mondiale che vede una doppietta della Yamaha con il dominatore oramai di questo Mondiale Fabio Quartarro, ancora una volta vingitore e leader in questo stato del campionato, ancora una volta vittoria di KTMI in Moto2, vince l'Italia invece con Foggia in Moto3, c'è gloria anche per Granado nella Moto3. Racing Podcast però si concentrerà ovviamente maggiormente sulla categoria regina e parliamo appunto di questa vittoria di Fabio Quartarro, una vittoria che ancora una volta suggella il piccolo d'Artagnan come leader in contrastato di questo Mondiale. È in generale una Yamaha ufficiale che si riprende soprattutto con Maverick Vignales che era diciamo il pilota più incerto dei due ma di Vignales ovviamente ne parleremo visto che comunque da sonata di ieri è arrivata una notizia molto importante sul suo futuro di Yamaha. È una certezza sicuramente Fabio Quartarro che ancora una volta vince e stavolta vince nella maniera più lorenziana del termine ovvero prendendo, impostando il passo gara e andandosene via salutando con la manina la concorrenza. È stata veramente una gara della MotoGP che era bella per le posizioni del podio, infatti è stata una grande lotta tra inizialmente la Ducati di Bagnaia, la Ducati di Sarco, poi sono arrivate le Suzuki, alla fine ha avuto la meglio il pilota della Suzuki e campione regnante in carica Juan Mir con tutte le altre case in realtà lasciate a secco per quanto riguarda il podio. Quartarro comunque con questa vittoria allunga ancora una volta su una concorrenza che appunto è livellata ma per posizioni ovviamente meno costanti del pilota francese, tra poco vedremo anche il suo rollino di marcia. È una Yamaha che comunque è trionfatrice da questo punto di vista se guardiamo ovviamente la Yamaha ufficiale perché effettivamente si risolleva anche quel Maverick Vignales che prese bastonate da tutti nella gara precedente e ancora una volta si conferma il pilota più incostante sulla faccia della terra perché è pazzesco che un pilota che è arrivato letteralmente ultimo alla gara precedente di colpo si svegli, faccia pole position in qualificazione e secondo in gara peraltro non avendo comunque lo stesso passo di Quartarro che veramente oggi aveva veramente una condizione straripante. Appunto la lotta c'è stata per il podio, l'ha spuntata Juan Mir che comunque fa ancora una volta il solito campionato di conserva l'unico problema per lo spagnolo è che quest'anno purtroppo non riuscirà a vincere il titolo del mondo verosimilmente perché questo Quartarro su questa Yamaha sembra veramente ingiocabile al netto che appunto il pilota francese è l'unico costante della casa dei Tidrapason perché appunto Vignales abbiamo detto è un pilota parecchio incostante delle Yamaha clienti ci sarebbe da non parlarne praticamente più per quanto faccia oltre modo fatica e anche oggi in realtà si è visto c'è da parlare però molto di Maverick Vignales perché comunque il giorno dopo la notizia di questo ritorno al podio che comunque per la casa è molto positiva arriverà la separazione consensuale peraltro tra Vignales e Yamaha e questa dipartita di Vignales da Yamaha indubbiamente scatenerà evidentemente un'asta per il pilota spagnolo e per la seconda sella della Yamaha ufficiale che effettivamente può puntare di fatto su un unico pilota che è questo Fabio Quartarro che di fatto prima dell'anno scorso non era di fatto alla ribalta era venuto in MotoGP come oggetto misterioso e alla fine si sta dimostrando il go to guy di Yamaha tant'è vero che la casa giapponese sta seguendo molto di più il pilota francese che il pilota spagnolo Maverick Vignales che tutte le volte partiva per essere un contendente al titolo l'anno scorso senza Marquez non ha fatto praticamente nulla quest'anno con un Marquez che ha vinto sia una gara in condizioni comunque particolari ma non il Marquez dominante degli altri anni poteva essere il suo anno e ancora una volta dimostra essere inconcludente per questo pacchetto la scelta a essere onesti è anche abbastanza condivisibile bisogna vedere su chi potrà puntare effettivamente la Yamaha ufficiale dal mio punto di vista da tifoso appassionato spero che venga promosso Morbidelli perché comunque la stagione di oggi per Morbidelli comunque conterà fino a un certo punto perché per Morbidelli è difficilissimo competere con una moto clienti di due anni prima con dei centauri che hanno una moto effettivamente aggiornata al 2021 e dunque con una tecnologia diversa infatti Morbidelli quando può riesce a fare delle prestazioni decenti e per decenti intendo anche zona punti è capitato spesso con prestazioni invece straordinarie addirittura nei primi cinque se non sul podio nelle altre condizioni Morbidelli fa la fine delle altre moto clienti e quindi se la gioca per le posizioni basse della zona punti come la sua Yamaha SRT effettivamente è posettata per farlo il trattamento di Yamaha di Morbidelli in realtà non è propriamente consono mi auguro che questa partita di Vignales possa promuovere Franco alla Yamaha ufficiale perché Franco ha dimostrato di essere un pilota di talento e soprattutto molto efficace tanto è vero che ricordiamo che Morbidelli è vice campione del mondo dello scorso anno e secondo in un mondiale vicino a tre gare non ci arrivi di certo per caso per Vignales dunque si apre a questo punto una trattativa alla sella più importante e libera bisogna vedere cosa succede perché effettivamente Honda pare già a posto Ducati ha già annunciato che si chiama un casino di moto in pista perché sono addirittura otto l'anno prossimo ma i team ufficiali cioè Pramac e Ducati ufficiali sono ovviamente già pieni rimane come ufficiale la Aprilia che è Anne che sta puntando su Alessio Spargarò e un collaudatore come secondo pilota con buona pace dei buonissimi Bradley Smith e Lorenzo Salvadori un Vignales in Aprilia con Dovizioso dietro come collaudatore potrebbe essere una combinazione vincente un po' come è stato Dani Pedrosa per la KTM tant'è vero che appunto Pedrosa non scende più in pista ufficialmente da quando correva con l'onda di Marquez in ogni caso il lavoro su KTM di Pedrosa si è visto e infatti la casa austriaca è di fatto la sorpresa di questa stagione oltre ovviamente a questo Fabio Quartarò che evidentemente sta straripando con quattro vittorie in nove gare ed è evidentemente lui il vincitore come dire il più probabile vincitore del titolo del mondo alla pausa estiva perché ricordiamo che la MotoGP e tutte le altre categorie del moto mondiale torneranno soltanto l'8 di agosto in Stiria per il primo dei doppi appuntamenti austriaci così come in Formula 1 per Quartarò ricordiamo suona la marsigliese e collezioniamo 156 punti contro i 122 di Johan Zarco che comunque è un pilota abbastanza costante per quanto disponga di una moto semi ufficiale perché la Ducati Prama che non è ufficiale al 100% ma è più privata che ufficiale il podio abbiamo detto lo completano Maverick Vignales che comunque nonostante questa seconda posizione è sesto ed è solo il secondo podio in stagione dopo la prima grande vittoria in Qatar e poi il buio assoluto terzo è Juan Mir che anche lui sta facendo il solito campionato di costanza che effettivamente lo contraddistingue il problema come dicevo prima è che recuperare 55 punti su Quartarò per confermarsi il campionato del mondo sembra pressoché impossibile gli altri piazzamenti appunto quarto Johan Zarco con la Ducati Prama quinto è Miguel Oliveira testimonianza che il portoghese probabilmente è il secondo pilota migliore in pista in questo momento dopo Quartarò e infatti il suo gol di marcia lo si vede con una vittoria in un secondo posto e un'altra top 5 sesto Bagnaia con la Ducati ufficiale che a mio modo di vedere è la delugione del giorno per quanto io sia un grande tifoso della Ducati una moto ufficiale che ha comunque questo potenziale e fino a poco fa schierava tre moto nelle prime quattro posizioni del campionato mondiale non può prendere diciamo paga da Suzuki da una KTM dovrebbe puntare spesso a prestazioni più costanti per puntare al titolo del mondo cosa che invece purtroppo non sta succedendo settima posizione è per Marc Marquez che comunque colleziona la quarta gara punti da quando è rientrato ancora una volta settimo pilota spagnolo ottavo a Lecce Spargro con una Priglia veramente sensazionale per quanto riguarda il suo modo di guidare evidentemente ma appunto come dicevo prima Priglia di fatto corre con un pilota solo nona posizione per Takahaki Nakagami che è di fatto la vera rivelazione di questa Honda da un po' di anni a questa parte e decima è la seconda onda ufficiale di Paul Lecce Spargro segno che comunque la Honda è vero che raccoglie punti bassi della top 10 ma comunque è già in crescita rispetto al disastro dello scorso anno per quanto riguarda gli altri italiani a punte abbiamo detto Enea Bastelini finisce quindicesimo ancora una volta gara a punti per quello che sarà spero il rookie dell'anno di questa stagione tredicesimo Danilo Petrucci con una KTM Tech 3 non propriamente all'altezza Lorenzo Savadori finisce sedicesimo in una gara abbastanza sulle potenzialità in realtà del pilota romagnolo non c'era presente Franco Morbidelli perché appunto si è infortunato c'è stato l'esordio di Garrett Gerloff pilota molto promettente della Superbike ma che in MotoGP ovviamente ha fatto fatica ad adattarsi ha definito anche lui After The Music così come finisce After The Music Luca Marini diciottesimo un'altra gara anonima così come gara anonima l'ennesima per Valentino Rossi da un po' di tempo a questa parte è inutile dire sempre le stesse cose negli stessi video è l'ennesimo capitolo della carriera di Rossi dove si lotta per i punti se va bene e quando non va bene si finisce nelle ultime posizioni qui c'è stata pure la caduta quindi segno evidente che la carriera di Rossi è in una evidente parabola discendente ci sarà evidentemente da valutare poi sul futuro del pilota marchigiano e qualora dovesse arrivare all'autista di un eventuale ritiro ne parleremo ovviamente perché al netto che io sono tifoso della Ducati è giusto fare un'analisi della carriera in generale di Valentino Rossi qualora che tiro avverrà non si riterrà ovviamente Fabio Quartarò e tutto il Moto Mondiale che appunto tornerà in stiria l'8 di agosto così come Moto2 e Moto3 di cui andiamo a parlare in questo momento con una Moto2 che vede anche una volta la vittoria della Red Bull KTM Aio che è letteralmente il team dominante di questo mondiale è stata una gara bella comunque quella della Moto2 una gara combattuta con due team a lottarsela per quattro posti le due KTM Aio e le Kalex del team Varkham VDS che è tornato effettivamente alla ribalta infatti il podio è molto nobile perché vince Raul Fernandez e per lui suona la marcia reale accorcia sul suo compagno di squadra Remy Garner che comunque va in vacanza come leader del campionato mondiale con un ruolo di marcia pazzesco perché tutti i podi e solo un quarto posto in Spagna fa capire che Garner sta avendo la stagione veramente della vita e sta effettivamente legittimando il posto in MotoGP dell'anno prossimo terza posizione per Augusto Fernandez Guerra che torna sul podio anche Augusto Fernandez è un pilota veramente talentuoso che ha raccolto molto molto poco un po' per lo strabordare di Sam Loos che l'anno scorso sembrava veramente il pilota più in forma e poi quest'anno ha fatto fatica a raccogliere risultati pari al suo livello risultato che torna invece ad accumulare Sam Loos che è vero è partito benissimo nella prima parte poi purtroppo è un po' sciso con 3-0 tra Portogallo, Francia e Italia sta recuperando evidentemente dei piazzamenti importanti ma 99 punti sono proprio pochi per il titolo del mondo del pilota inglese è evidente come il Mondiale Moto2 comincia già a essere letteralmente indirizzato verso Remy Garner seppur ci sia il duello a due appunto con il suo compagno di squadra Ruf Fernandez questo diverso invece va fatto per la Moto3 dove il Mondiale è bel che chiuso da un po' per quanto riguarda gli altri italiani ancora una volta il migliore rimane Marco Bezzecchi che finisce quinto che è uno dei pochi italiani che regge la baracca in Moto2 l'altro è di Gian Antonio che però purtroppo oggi è caduto gli altri italiani a punti li andiamo subito a vedere ci sono punti soltanto di fatto per Celestino Vietti che di fatto chiude la Top 10 tutti gli altri italiani sono ancora una volta finiti fuori dai punti segno che nelle classi intermedie dopo una buona proliferazione dei talenti diciamo che si stenta un po' così come si stenta parecchio in Moto3 nonostante l'Italia effettivamente abbia vinto perché Dennis Foggia è uno dei grandi esperti della Moto3 è un po' una contraddizione di questa categoria che dovrebbe essere secondo me una propensione ai giovani piloti per le categorie superiori va a vincere in una gara veramente interessante a gara di Moto3 molto controllata seppur risolta in volata davanti a Sergio Garcia spagnolo su Gas Gas che di fatto accorcia per quello che possa contare in questa medaglia di Moto3 cioè 0 su Pedro Acosta e terzo per Romano Fenati che appunto è l'ennesimo italiano esperto di Moto3 e appunto se tutti questi italiani esperti sono ancora in Moto3 e hanno di fatto la mia età o poco meno effettivamente un motivo c'è in ogni caso la gara è stata divertente e onore a Foggia che fa ricionare il canto degli italiani il nostro inno per una vittoria che lo porta effettivamente al terzo posto in classifica del campionato per un Foggia che comunque è uno dei piloti più in forma di questa Moto3 perché sono due vittorie e un terzo posto nelle ultime tre gare secondo il podio costitutivo peraltro per il pilota romano in tutto questo Pedro Acosta conclude quarto al traguardo in una gara di rimonta partiva diciottesimo dopo che di fatto le qualificazioni non le ha praticamente fatte e di fatto perde qualche punto su Sergio Garcia ma ripeto appunto conta relativamente poco perché appunto c'è un distacco di 48 punti su Sergio Garcia di fatto due vittorie segno che il Mondiale Moto3 quest'anno c'è poco da fare andrà a Pedro Acosta che l'anno prossimo verosimilmente me lo aspetto in Moto2 con KTM Aio con Raul Fernandez peraltro confermato gli altri italiani che appunto finiscono a punti andiamo a rivedere una gara che vede Stefano Nepa per esempio finire undicesimo Nicola Antonelli finisce quattordicesimo per una caduta anche in realtà che lo ha coinvolto nella competizione tutti gli italiani sono finiti o fuori dai punti o ritirati quindi ancora una volta prestazione che lascia il tempo che trova per i nostri portacolori concludiamo invece con la MotoE dove invece gli italiani sono protagonisti non però in questa gara di Assen dove vince Eric Granado che di fatto vissa la vittoria di Le Mans e fa risuonare l'inno nazionale brasiliano per la vittoria di questo pilota comunque interessante per queste moto elettriche che hanno questa coppa del mondo che anche lì è arrivata al Giro di Boa con Alessandro Zaccone uno degli italiani promettenti di questa categoria che è ancora leader del mondiale facendo un gran bel podio con 70 punti seconda posizione appunto per Jordi Torres che è il campione regnante di questa categoria e appunto primo è Eric Granado che appunto con la seconda vittoria in quattro gare va a 53 punti a meno 17 da Zaccone e a meno 10 da Jordi Torres si è ritirato anzi meglio è caduto è definito ultimo Dominic Gerter che era uno dei grandi protagonisti di questo campionato del mondo MotoE che invece purtroppo deve abdicare e cedere 0 punti in un campionato così corto 0 punti possono pesare oltremodo gli altri italiani Mattia Casadei finisce sesto grande Matteo Ferrari che finisce quarto lui che è il campionato del mondo della prima categoria all'assunto della MotoE Kevin Zannoni finisce tredicesimo Andrea Mantovani finisce quattordicesimo e con gli italiani abbiamo concluso parentesi sulla solita Maria Herrera che va sempre citata in questo di Race Podcast quindicesima ultima posizione appunti dunque 12 punti in classifica di questa MotoE che tornerà in Austria il 15 di agosto per il secondo appuntamento dell'Austria per quanto riguarda il Moto Mondiale in generale un po' come appunto ha fatto la Formula 1 dunque per quanto riguarda il Racing Podcast della Moto Mondiale riprenderemo l'8 di agosto evidentemente per quanto riguarda invece le moto in generale riprenderemo con la Superbike tra domenica e lunedì perché si corre a Donington Park mentre per quanto riguarda la Formula 1 si riprenderà sempre tra domenica e lunedì dipende poi dai vari impegni che mi coinvolgeranno mentre il prossimo video in generale sul canale sportivo sarà tra giovedì e venerdì con la Major League Baseball Review del mese di giugno della stagione regolare dunque anche lì atteso podcast molto lungo dedicato al meraviglioso gioco del baseball intanto vi lascio con la classifica del Mondiale MotoGP prima della pausa estiva con Quartarow sempre più leader sempre più indirizzato al campionato del mondo fatevi vedere cosa ne pensate di questo video e saluto da Bart di Mecetorger ci vediamo al prossimo video